Ben ritrovati dalla redazione di Firenze Smart, Cesare Martignon in vostra compagnia. Traffico regolare su tutta la rete stradale e autostradale toscana e sulla FIPI-Li. Prudenza per la presenza di un veicolo fermo in avaria in A1 variante, tra il BV A1 variante di Valico e Sasso Marconi in direzione Bologna, chilometro 219. Vi ricordiamo che è tornato in vigore il provvedimento sulle attrezzature invernali da portare a bordo dei mezzi nella maggior parte delle strade toscane. Ecco alcune delle strade chiuse domenica 24 novembre per la Firenze Marathon, Piazza Duomo, Lungarni, Cascine, Ponte Vecchio, Zona San Frediano, Santa Croce, Info, Firenze Marathon.it. Fino all'ora 21 di oggi, 24 novembre, è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, Italo e Trenord. Non sono previste fasce di garanzia. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie! 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 Grazie!